Sono inutile Federico, sono mia incuriosita, ha incuriosito tutti del resto. Tutti, siamo qua tutti in attesa. Dai. Con quello che succede su questo pianeta in questo momento pigliamo sempre la giusta distanza parlando di sport, ovviamente perché non è un momento particolarmente propizio. La cosa più importante delle cose meno importanti, diceva Arrigo Sarri. Assolutamente. Tanto premesso, io sabato sera ero un po' fuori dagli stracci. Io di solito piglio appunti per la partita tattica, non sono più in grado di leggerli perché ho fatto palle di carta, ho fatto di tutto. Tre ordini di valutazione. A, la prima di natura psicologica. Mai nella vita avrei pensato di vedere il Milan entrare piatto così in una partita di questa importanza. Mai. Ero esattamente convinto del contrario. Cioè, i giocatori degli ultimi 20 minuti del Bari entrano in campo con quel ritmo mentale, prima che di calcio. Secondo, nelle ultime sette partite il Milan nel primo tempo ha segnato una volta col Chievo a Verona, col gol di Robigno sostanzialmente da annullare. Il mister ci racconta sempre che i secondi tempi del Milan sono figli dei primi. Ma, se abbiamo giocato in Europa e o in Italia subendo un gol nel primo tempo, la partita non l'abbiamo mai girata realmente. Abbiamo vinto le partite che erano finite 0-0 nel primo tempo e poi abbiamo segnato da qualche parte nel secondo. punto terzo, se questa squadra va al ritmo del respiro e del cuore di Rino Gattuso, e io credo che vada al ritmo di Rino Gattuso, se Rino è in diffida prima del derby e in 90 minuti, io non ricordo un suo fallo, Rino non ha fatto un fallo in 90 minuti, la squadra va con lui perché gli manca il giocatore che ha quel modo di stare in campo che costringe gli altri a giocare in un certo modo. Se Rino va sotto il rigo dal punto di vista emozionale, la squadra scende con lui. Problemi tattici. Secondo me, questa squadra ha mostrato abbastanza chiaramente, domanda fatta al mister l'altro giorno, mister, perché in questa squadra non giocano i mancini? Il problema di questa squadra è l'ampiezza del campo, è palese. Entra Emanuelson contro il bar, il campo si allarga di metri 6. Questo è l'unico dei nostri che calcia di sinistro da qualsiasi posizione e, ancora più importante, noi abbiamo un solo giocatore che va senza palla, che si chiama Luca Antonini, che però non crossa di sinistro a meno che non sia una situazione dinamica. Se è statica, rientra sul destro e noi andiamo continuamente a cercare una certa zona del campo. Vi cito tre nomi, Belmonte, Gallas e Mugnoz. Andate a vedere le partite di questi tre giocatori prima di quelle col Milan e volendo anche quella dopo e guardate il rendimento di questi tre giocatori, cioè il primo centrale di destra della difesa, tutti da 8. Grazie, è facilissimo giocare quella zona di campo per quel giocatore lì. Altro particolare, secondo me fondamentale. Assolutamente allibito da come in una settimana il Milan non abbia provato un singolo movimento di coppia tra Cassano e Pato, un singolo movimento sincronizzato. Abbiamo giocato senza la prima punta, sapendo perfettamente che Cassano e Pato giocano lontani dalla porta. Come facciamo a pensare di giocare senza una prima punta? Certo, abbiamo giocato al ritmo del calcio in cui abbiamo giocato fino adesso e invece il ritmo degli ultimi 20 minuti col mare, che io credevo fosse quello di questa partita, ci permette di avere due giocatori così. Andate a vedere le quattro squadre che giocano bene in Europa in questo momento. L'Udinese, il Borussia Dortmund, il Porto e il Real Madrid. Lascio stare Barcellona perché con i giocatori che ha non è duplicabile. Guardate che cosa fanno avendo delle punte leggere. Si fanno attaccare per creare spazio per questi giocatori? Perché se no questi qua vanno contro a chi ci sta aspettando. Sono 7-8 partite che si chiamino retnapp, Bortolo Mutti o ieri Serse Cosmi. Fanno tutti le stesse cose contro di noi. Se devi scegliere chi pressare tra Neste e Tiago Silva, presso Tiago Silva. Non si fa la diagonale con gli intermedi, mai su Gattuso, ogni tanto su Flamini, ogni tanto su Flamini. Giochiamo abbassando i due intermedi sempre sulla prima punta, tanto il Milan gioca solo quella zona di campo lì. Se crossiamo per i barimucci che si sposta, salta l'esterno più il centrale di quella zona lì e l'altro fa la diagonale. Facciamo sempre le stesse cose. Ultimo punto, la situazione relativa a Boateng. Per farlo giocare a White Hart Lane, noi l'abbiamo perso per queste due partite sostanzialmente. E siccome gioca il vertice basso del rombo, per noi è il giocatore fondamentale, perché è l'unico che volendo ti fa la prima punta e volendo fa le cose che gli altri non fanno. Noi abbiamo giocato senza Boateng queste due partite. La prima del tutto e la seconda era un pro forma e abbiamo lasciato lì cinque punti che non dovevamo lasciare lì in nessun film del mondo. Posso farti un'ultima domanda filosofica? Perché so che ogni tanto ti seguo e so come la pensi. Il Milan di Allegri ha cambiato faccia al Milan dopo dieci anni di un determinato tram-tram aggiungendo corsa e muscoli a questa squadra. Arriva a Palermo nella gara fondamentale della stagione dopo aver pareggiato. Manca Ibraimovic, simbolo di corsa e muscoli di questa squadra, oltre che di tecnica. Tiene fuori Boateng per motivi fisici, però colpevole chi l'ha fatto giocare a Londra, e Robinho. E fa giocare Cassano e Sedolf. E ho detto Cassano e Sedolf mancava purtroppo Ronaldinho, altrimenti avremmo fatto... C'era tutta una linea filosofica. Esatto. Perché? Secondo me è un'osservazione molto interessante, però secondo me sta a monte un discorso più importante, a mio modo di vedere. Perché come vedo il calcio io, il calcio è veramente opinabilissimo. Io sono stufo di sentire la frase non abbiamo rischiato niente. Il Milan rischia pochissimo, rischia un quinto di quello che rischiava il condo, ma con questa mentalità abbiamo demineralizzato la nostra fase offensiva. Perché ci siamo affidati a un calcio scheletrico, offensivamente. Abbiamo meno giochi offensivi di tutti. Cioè se tu vai a vedere... Io devo farlo per mestiere la partita tattica, quindi devo sezionare passaggio per passaggio. Siamo una squadra che ha meno creatività offensiva di vertice del nostro campionato. Infatti? Sei d'accordo? Infatti, certo che sono d'accordo. Infatti domenica noi abbiamo giocato alla stessa identica maniera... Come se avessimo io. Come se avessimo Ibrahimovic. E di conseguenza non c'è stato un movimento... C'era veramente l'area... Tu vedevi Cassano tutto a sinistra, Pato tutto a destra. Con tutto il rispetto. Ma che cosa ci interessa di avere la squadra che rischia poco? Tanto comunque quando pili il tuo golletto non sai neanche ribaltare la partita, in compenso questa squadra che è due volte superiore nella media alle avversarie che incontra, continua a fare una fase offensiva pressando alto e quindi non facciamo altro che portarci incontro a stiquano. E squadre che hanno preso caterve di gol con noi, fanno dei figuroni difensivi incredibili. Secondo me la partita di Londra è molto sopravvalutata da questo punto di vista. Sono andato a leggere continuativamente le cose che dicevano i giocatori inglesi dopo la partita dicendo quello che ci aveva detto Mr. Redknapp. Gli diamo campo, ci facciamo dominare perché noi non li reggiamo due così da forti davanti, li aspettiamo e poi se ci sono le opportunità ripartiamo. Andate a vedere le squadre che citavo prima. Vedete cosa fa Real Madrid di Muregno contro il Tottenham? Ma si fa attaccare. Ma come fai? Cosa fa? Aspetta. Ma tutte le squadre di vertici si fanno attaccare. Cioè? Cioè il Milan attacca... La palla a gol principale della partita è una verticalizzazione in un'occasione in cui loro sono sopra. È Sedor, dritta Ibra, dritta Pato, rimorchio Robigno. Su un'azione loro. Il gol più importante dell'ultimo periodo contro il Chievo segnato da Pato in una partita che finiva 1-1. Bogliassino e Fernande sono su. Non li prendiamo con la fase difensiva a 8, li prendiamo con la fase difensiva a 6 con Pato che prende palla presto. Perché Pato, marcato da Belmonte, su 5 metri è un giocatore. Dagliene 15. Come con Napoli. Certo. Perché noi non siamo capaci ormai pressando con i tre mediani. In altra parte sai i tre mediani cosa fai? Gli aspetti? No, scusa Federico. Tu allenatore cosa dice? Aspettiamoli. Loro aspettano noi. È una domanda che ti faccio. Secondo me il discorso filosoficità cosa fai? Cosa fai? Beh però a questo punto secondo me... Ragazzi, noi siamo ancora qua ed è triste dirlo che il signor Cafu che ha passato la vita a far vedere i suoi centrocampisti che era sempre alla loro altezza ogni volta che usciva la palla e ad Andrea Pirlo che poteva attaccare la linea lui. Cosa che non facciamo più. I nostri due esterni non sono mai trovati dietro la linea. Sono sempre. Abate la vuole ferma e ti punta. Luca la vuole sulla corsa ma non giochiamo a quel sistema per lui e non è sicuro del suo cross sinistro. Ragazzi, sono dei particolari che però fanno le partite e le stagioni specialmente calcolando che gli avversari del Milan difendono praticamente solo una zona di campo. Vogliamo dire che c'è stato anche un caso. Noi abbiamo un insegnante a livello mondiale che non è l'allenatore del Milan perché non ha accettato di fare l'operazione al naso. Eh sì, perché ha il naso che non va bene per il presidente. E' lì dal 1980. Sì. Vabbè, ma comunque ha migliorato molto. Quello che invece vedo che è migliorato per quanto riguarda il discorso dell'attacco è un po' meno Luca per quanto riguarda le diagonali e la fase difensiva. in quel caso lì dall'avversario... La mia critica a Luca che noi prendiamo troppi cross dal suo lato che credo che pensi anche il suo allenatore perché non è stato impostato da terzino e non ha proprio la tempistica dell'uno contro uno in marcatura senza aiuto. Troppe volte secondo me con lui l'esterno che lo attacca in qualche modo la riesce a mettere in mezzo. La mia diagnosi è proprio questa. Siccome il mister considera detto qua Flaminì un anarchico ovvero sia che va troppo e che alle volte non c'è dove dovrebbe essere a raddoppiare allora si fida di più del vecchio Iancu che è stato giubilato per mesi 5 e poi improvvisamente è riapparso pur noi avendo preso due esterni al mercato di gennaio per questo motivo qua. Perché se c'è Mattio Mattio va va tanto e non lo riescono a far tornare indietro con i tempi che vogliono. Allora lui non si fida dell'uno contro uno difensivo di Luca. Sono gli unici tentativi di ritrovare la scatola nera per giustificare un'escusa. Ma anche in questo scusa eh dato che è un inclassivo. Ieri un mio amico mi ha mandato perdonato l'orrendo anglicismo mi ha linkato perché era su YouTube la conversazione tra il sottoscritto e Leo prima della partita contro la Juventus la partita dell'addio e ascoltando quella conversazione che è sostanzialmente legata al fatto che io gli dico mister ma non è che poi a Milan Channel me lo ricordo perfettamente vedremo scritto sui giornali la verità me lo ricordo come se fosse oggi oppure che poi c'è dell'altro e lui mi dice dormi tranquillo non mi conosci non succederà mai niente di tutto questo. Io la guardavo però sinceramente non è una cosa che mi colpisca tanto perché io le mie idee su quell'uomo tra l'altro ha un rapporto migliore con Leo quando non è l'allenatore del Milan rispetto a quando lo è perché comunque è una persona che mi ha concesso delle cose vorrei dire che il giorno dopo quella conversazione chiese scusa tra l'altro non aveva nessun bisogno di farlo io non ho tutto questo astio nei confronti dell'allenatore dell'Inter nella maniera più assoluta penso che faccia parte del suo modo di stare al mondo e il suo modo di stare al mondo lo rispetto so perfettamente che cosa pensa tanta parte del tiforso nero e c'è un particolare non ho più 30 anni o 25 perché forse a quell'età lì l'avrei presa come uno squarcio nel petto passato il tempo della tua vita in cui guardi il mondo in un altro modo magari lo fai diventare all'interno hai visto tutto hai visto anche questo però io non